Senti, ti ricordi quando ti sei sposata? Io? Eh? Al 39 Nel 1939 E quanti figli hai avuto? Come? Quanti figli hai avuto? Io? Eh? Due Solo due? Due Della guerra ti ricordi qualcosa? Una volta no Non tu potrei non fare tanti Perché c'era un lavoro Eh certo Ma per lavorare? Eh? Eh? E come deve assegnare? Senti Tuo marito come si chiamava? Giuseppe Lugre Pure lui Giuseppe? Lugre e Giuseppe Due Giuseppe Giuseppe e Giuseppa Giuseppe e Giuseppe Io voglio essere Giuseppina Senti Ti ricordi come è stato il giorno del matrimonio? Eri bella vestita? Come? Ti ricordi come era il giorno del matrimonio? Eri bella vestita Come eri vestita? Eh? Eri vestita Come? Potrei andare? Tu di Deglia Nuova sei? Come? Di Deglia Nuova sei? Sì A luci? Ti ricordi? Quando arrivavo a luci? Eh no Fu una festa Randy Non mi ricordo Ora che so Non lo so E della guerra ti ricordi qualcosa? Come? Della guerra ti ricordi qualcosa? Della guerra sì E che ti ricordi? Della guerra Ha detto figli? Di già? Eh certo Senti E che ti ricordi la guerra? I bombardamenti ti ricordi? Come? Le bombe Ti ricordi le bombe? Gli aerei che passavano? Gli aerei che i bombardamenti Dopo me Che mi bombardavano A fare una cagnota mia Che morì Che gli scheggi Ah sì? Sì E dove è morta? O poi 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 Senti Cos'è che mangi tutti i giorni? Che ti piace mangiare? Come? Cosa ti piace mangiare? Eh? Tutto Eccomo ora Che mangi? Faccio manchere Eh La pasta? La mangi la pasta? La pasta? Eh Pasta Poco Poco eh La carne? La pastina La pastina La pastina La pastina La leggera Il vino lo bevi? Come? O vino O vino? Eh Niente Una volta quando ero giovane beviamo No niente Ora Che mai bevi? Non ti faccio male Tutti po' Che lavoro faceva tuo marito? Come? Che lavoro faceva tuo marito? Il mio marito? Eh Tutto Eh Che tipo di lavoro? Contadino? Che era? Ero la moratora Ah Ero di Quello che capitava? E tutto che capitava Sì E tu hai lavorato? Come? Hai lavorato tu o no? Era? Hai lavorato tu o no? Tu hai lavorato? Io? Eh Le seganne Quando lavoravi? Nei campi dove andavi? Le seganne Appi prima Quattro Eh Quattro lire Per quattro lire? Una volta erano lire Eh Una volta erano lire Erano meglio i lire E A seganne Mi piaceva Quattro lire E che lavoro facevi? Allora Raccogliette Le olive Ah Raccoglievi le olive? Eh Ti saluto Ciao Grazie 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 Grazie